La gente che ha difficoltà a deambulare in pratica non può soffrire dei servizi che offre il municipio. La situazione qui in quinta circoscrizione è diventata paradossale qui come in tutto il comune di Palermo. Ormai da più di un anno la ditta che si occupava della manutenzione degli ascensori alla quale non è stato più rinnovato l'appalto ha creato questo problema e l'amministrazione a distanza ancora di un anno non riesce ad ovviare appunto al problema. Questa è una situazione come dicevo in quinta circoscrizione ma è soltanto una delle tante. Di fatti Palermo è stracolma di situazioni del genere che creano chiaramente forte documento alla cittadinanza. Con ogni probabilità il sindaco è preso da altre cose tra le quali sicuramente anche l'organizzazione del prossimo Gay Pride. Oggi tu hai accompagnato tua zia qui in sedia a Rotelle però non si è potuto salire appunto ad usufruire dei servizi che offre il municipio. Purtroppo la situazione è sotto gli occhi di tutti e speriamo al più presto l'amministrazione comunale di risolvere questo inconveniente per le persone disabili.